Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Cosa fa oggi Lucia di Masterchef Italia 5? Ecco come è cambiata la sua vita dalla partecipazione al programma Per chi segue con passione Masterchef Italia, tutte le varie edizioni sono state caratterizzate da personaggi curiosi o che ci sono rimasti nel cuore. Proprio come Lucia Giorgi, la sindacalista della quinta edizione, che ha fatto piangere e ridere tutti noi Ma che fine ha fatto Lucia oggi? Come è cambiata la sua vita dal 2016, quando partecipò al cooking game più famoso d'Italia? Ha ripreso a fare la sindacalista o si è dedicata solo ed unicamente alla cucina? Lucia Giorgi a Masterchef Italia 5.Lucia ha preso parte alla quinta edizione di Masterchef I giudici, quell'anno, erano quattro, Bruno Barbieri, Carlo Cracco, Gio Bastianici e Antonino Cannavacciuolo La sua edizione è stata molto chiacchierata, soprattutto per via di alcuni concorrenti che hanno fatto discutere Non possiamo dimenticare, ad esempio, Alida Gotto con la sua idea super femminista e quasi crudista della cucina, oppure Maradona Youssef che oggi è diventato resident chef in un famosissimo ristorante dopo aver fatto gavetta al Forghetti di Bruno Barbieri Lucia stessa, con il suo modo un po' duro e schietto di comportarsi aveva diviso il pubblico a casa C'era chi amava la sindacalista e chi invece non la poteva sopportare Quell'anno, la vincitrice di Masterchef non fu lei, ma Erika Liverani Cosa fa oggi Lucia di Masterchef? Sono passati sette anni dalla partecipazione di Lucia a Masterchef Italia e una cosa è certa, la sua passione per la cucina, non si è mai sopita Basta guardare il suo profilo Instagram per rendersi conto che l'ex concorrente continua a cucinare con tutta se stessa, ma anche a fare partnership con diverse realtà culinarie e a curare il suo blog Baciami Subito Si fa chiamare la signora in rosso e nella sua bio spiega meglio cosa fa oggi, questo blog nasce dalla richiesta del mio pubblico, è uno spazio dove possiamo interagire e in cui fare richieste e avere le informazioni sugli eventi che mi vedranno ospite Lucia Giorgi infatti oggi cucina per passione per diversi eventi e show cooking Sicuramente, purtroppo, il Covid non ha aiutato la sua carriera infatti sul blog vediamo che l'ultimo evento sponsorizzato è del 2017 Dal profilo Instagram però abbiamo informazioni più aggiornate grazie alle ultime ricette pubblicate dall'ex concorrente La vita di Lucia di MasterChef è quindi nettamente cambiata. La cucina è al centro della sua vita e, anche se magari non ha ottenuto il successo del suo ex collega Maradona, è innegabile che ora la sindacalista preferisce farsi chiamare la cuoca Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti